salve 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 buongiorno prego se comodi guardi finisco solo due misure del cliente che c'era prima e arrivo subito allora mi dica come posso come posso aiutarla si quindi vorrebbe farsi un abito giusto per quale occasione è un matrimonio ho capito che belli i matrimoni sono sempre belli allora ha già un'immagine ho un pensiero di come dovrebbe essere l'abito oppure cerchiamo di scegliere adesso insieme magari ha qualche foto da farmi vedere ok la foto ce l'ha perfetto vediamo il colore lo preferisce chiaro oppure scuro il colore ah quindi mi porta lei il tessuto no perchè noi comunque abbiamo una vasta camma di tessuti da poter scegliere però ah gliel'hanno regalato il tessuto quindi lei con questo tessuto vorrebbe fare l'abito è interessante questa cosa va bene non c'è problema ecco io ovviamente dovrei vedere il tessuto per capire se effettivamente si riesce a fare un lavoro del genere però intanto direi che possiamo prendere qualche misura e magari creare la bozza con la carta creare la bozza dell'abito per poi ovviamente passare la lavorazione sul tessuto va bene e in quanto tempo deve avere l'abito lei? ah va bene allora sono tre mesi insomma ce lo facciamo tranquillissimamente non si deve preoccupare per niente ecco allora io adesso intanto prendo le misure per poterle poi appunto disegnare sulla bozza e successivamente lei mi porterà il tessuto magari cerchiamo di capire un attimo se c'è da migliorare se va bene se non va bene però non si preoccupi insomma ma alla fine tutto si può fare va bene va bene si mi può dare gentilmente il suo nome cognome e anche un numero di telefono così si 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 di cognome va bene e il numero di telefono centralmente ok allora guardi mia amica in un attimo si vuole capire allora io adesso le faccio vedere alcuni colori che secondo me per un matrimonio vanno sempre bene le faccio vedere i colori eventualmente per capire quale di questi si abbina meglio al viso poi insomma quindi vediamo il metterò vicino al suo al suo viso per capire quale di questi le apre magari il viso le do più luce le toglie la luce perché sa ormai anche gli abiti hanno non solo più una funzione di come dire non fanno solo più la funzione soltanto fisica quindi sul corpo diciamo dal viso in poi però in realtà l'abito porta tantissimo anche sull'aspetto stesso del viso quindi facciamo questa prova io le do qualche consiglio su quale colore secondo me le starebbe bene così ha un'alternativa eventualmente al al tessuto che le hanno regalato allora partiamo da dalle varie tonalità quindi direi di partire da una tonalità allora queste sono relativamente chiare ovviamente tranne questa sì assolutamente le ho prese in modo sbagliato porti pazienza oggi è stata una giornata lunga allora eccomi qua arrivo allora queste sono le tonalità chiare che di solito possono andare bene per i matrimoni poi ovviamente dipende anche sempre se il matrimonio è d'inverno d'estate e invece queste sono le tonalità scure per chi possa preferire la tonalità scura io ad esempio adoro il nero però tante volte magari avuto di portarlo perché sennò sarei sempre vestita di nero va bene ok allora facciamo una prova allora questo è sì vediamo se si avviene bene al viso beh questo diciamo che le dona una particolare luce agli occhi questo ok vediamo sì questo è il nero e sì beh come dire dà importanza alle linee del suo viso quindi non lo ammorbidisce ma lo rende un po' più impattante se posso dire così questo è il grigio è una via di mezzo ok diciamo che le linee del viso non sono fortissime però sono un po' più dolci ok vediamo il rosso come va il rosso ecco il rosso è un altro colore che io veramente adoro allora vediamo mi avvicino un po' vediamo il rosso come sta ok va bene anche il rosso e poi c'è il verde verde acqua allora allora vediamo il si wow questo questo resta proprio bene se devo dire la verità direi di metterlo da parte nell'eventualità poi abbiamo il giallo che è il colore molto allegro ok si ecco forse bello però molto molto visibile ok lo eliminiamo poi c'è il rosa che può essere sia femminile che maschile ormai i colori non sono non hanno più un gender ok sì non è male però personalmente preferisco preferisco il verde per la tipologia del suo viso forse è meglio il verde acqua e poi c'è l'ultimo colore che è un violaceo vediamo sì direi che decisamente allora avevamo detto che anche il rosso le stava bene ma riproviamo insieme a metterli così per valutare un attimo un po' meglio allora il rosso è il mio preferito però lei decisamente sta benissimo benissimo veramente questo verde verde menta verde acqua riproviamo a metterla con pronto con il nero ok si guarda anche lei un attimo lo specchio quale dei due crede che possa andare meglio ecco mi sposto allora mi rifacciamo così mi sposto io mi metto a lato ok e lei valuti quale dei due secondo lei può andare meglio ecco si vede ok sì sì decisamente il verde vero va bene allora guarda che io metterò questo verde da parte intanto passiamo quindi a prendere le misure possiamo iniziare con le misure mi riprendo un attimo il quaderno e ritorno subito ok allora partiamo dalle spalle appoggio un attimo un quaderno sì guarda eh sì allora prendiamo dalle spalle se gentilmente si può girare dall'altra parte così riesco a vedere ok perfetto allora sistemiamo un attimo il lato ok allora ok ok segno un attimo e adesso possiamo all'altra spalla ah lei nel frattempo ci sta pensando al colore verde vero? allora passiamo all'altra spalla 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 8 8 11 12 12 13 15 16 24 15 ok allora ricontrolliamo adesso le chiedo gentilmente di alzare le mani su e prendiamo la misura del busto allora le passo da dietro perfetto così ok perfetto perfetto si 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 perfetto ci siamo si ok allora vediamo dove siamo arrivati provi un attimo a respirare in modo profondo ok profondo 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 e adesso espiri 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 così senta l'uomo senta senta l'uomo senta l'uomo senta l'uomo ok ci siamo adesso ti ero tolgo si fatto due secondi che signora le misure e continuiamo adesso mi dia il braccio in questo modo in questo modo adesso mi dia ho capito il volo perfetto ok allora 40 42 41 40 39 poi ok perfetto e adesso adesso anche l'altro braccio quindi per cortesia metta anche l'altro braccio lo stesso modo vediamo di prendere le misure anche ben sicuramente allora però non è detto non si sa mai magari la lunghezza è un po' diversa 35 30 40 40 40 40 4 5 40 40 40 40 40 40 40 ok Ok, perfetto, qua ci siamo. Ok, allora adesso prendiamo la misura dal collo fino all'anca. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora vediamo, ok, tenga bene qui per cortesia, tenga bene, sì, perfetto. Eh, mi scusi, ma ecco, la mano mi serve. Quarta, sette, quattro, 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 quattro. Ok, perfetto, e verifichiamo anche l'altro lato. Dicca un attimo, ok, ve lo so, quattro, 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 quattro. È dritto? Sì, cinquantanove, sessi. Ok, va bene, sessanta, amm, perfetto. Allora adesso le devo prendere anche la misura della vita Quindi le passo di nuovo dietro Ok Perfetto Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ok Benissimo Perfetto Ci siamo Ok Perfetto Adesso prendiamo anche la misura Ok Abbiamo detto 40 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 50 40 41 42 42 43 43 Ok, ci siamo, ce la stiamo facendo. Guardi, le metto solo un secondo. E perché non vorrei sbagliare, allora, una spilla. Allora mettiamo una spilla qua, così, fissiamola, tipo, guardi, due secondi proprio, fissiamo il, ok, così, ecco, ok. Ok, perfetto, adesso anche l'altro lato, tolgo un attimo. Tenga qua, ok, tenga lì. Ok, perfetto. Allora, guardi, io ho preso tutte le misure. Allora, sì, ho preso tutte le misure e mi segno l'ultimo. E allora aspetto che mi porti il tessuto, così riusciamo anche un attimo a inquadrare meglio. E nel frattempo lei ci pensa per il verdino che abbiamo visto. Va bene, grazie, arrivederci.